Che ora è? Scusa, ma che ora è? Che non lo posso perdere, l'ultimo spezzacolo. Fine del mondo, immondo, visione, diretta da San Pietro per l'occasione, la borsa sale, i maroli non, ferri, batte il record di autogol, e liste del giudizio universale, l'avevo trasmesse dai telegiornali, ma rettunificate poi sulla pagina 666. La prima però sul canale 9 ci sarà il terzo festival del dolore, con la finale dei casi umani, meno meno mani che mai. I buttami e i reciti hanno dentro, che la pila, niente ciccia, niente, ma tu giri più leggero, bruciando le tue scorte di preservativi, fiori in fiorello, l'amore bello, 666. Sei tu, a che ora è la fine del mondo, a che ora è la fine del mondo, a che ora è la fine del mondo, che rete è? Destra, sinistra, su, giù, centro, fine del mondo, compagno in giramento, che chi è fuori è fuori e chi è dentro e dentro e fuori TV, non sei niente. Ultimo appello per i merdaioli, finitevi la merce che di là non funziona, altro girone, altro regalo, niente caramelle per i lecca, culo che il girone è giusto, ok. Che ora è la fine del mondo, a 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 che ora è la A che ora è la fine del mondo, che regge è? Forse la fila mancherà qualcosa, casa chiesa, telecosa, serial killer, serial politici, morte in diretta, i migliori casi clinici, i cazzi vostri in onda, ok? A che ora è la fine del mondo, a che ora è la fine del mondo, che regge è? A che ora è la fine del mondo, a che ora è la fine del mondo, a che ora è la fine del mondo, che regge è? A che ora è la fine del mondo, a che ora è la fine del mondo, che regge è? A che ora è la fine del mondo, che regge è? A che ora è la fine del mondo, che regge è? Grazie a tutti. Grazie a tutti.